Perché la Divina Commedia è un poema allegorico di Tascarico? È un poema perché è scritto in versi, per le settezza in decasilebi. Le strofe sono tersine, gruppi di tre versi e decasilebi. Di Tascarico perché ha lo scopo di darci delle informazioni, di educarci. Allegorico. L'allegoria è una figura retoica in cui l'autore comunica con un linguaggio simbolico. Il testo ha un significato nascosto che l'autore lascia al lettore la facoltà di comprenderne il significato nascosto. L'allegoria è una figura retorica in cui l'autore comunica attraverso dei simboli. Il testo non ha il significato letterale. Il lettore deve scoprirne il senso nascosto. Coprire il senso nascosto all'interno del testo. Ciao, al prossimo video!